Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano, ottava edizione del Cleto Festival 2018 In mia compagnia abbiamo il filo di Sofia in collaborazione con Francesco Aiello per Vite a caso Quindi adesso dobbiamo un attimo capire cos'è questa Vite a caso, cosa vuol dire Vite a caso Io lo chiederei inizialmente proprio a Armando Canzonieri Perché sul programma c'è scritto Canzonieri e poi ci sono degli errori È gravissimo davvero Grave, è a caso È a caso, come la vita, poi bisogna vedere se la vita è veramente a caso o avete studiato qualcosa e quindi non è... Non è venire stasera a vedere Al Cleto Festival, orario 21 Ora è ventuno Ok, ora è ventuno Se il tempo ci... Grazia No, parliamo proprio Ok, non lo diciamo che siamo scaramantici Ok, allora iniziamo direttamente con Armando e gli chiediamo di cosa si tratta Tu hai un personaggio, immagino Allora, senza entrare nel dettaglio dello spettacolo Altrimenti sveliamo qualcosa che invece loro devono venire a vedere questa sera Noi siamo partiti da un'idea Abbiamo fatto convergere diciamo le nostre idee su un libro, un romanzo che si chiama L'Uomo dei Dadi In cui il protagonista cerca di stravolgere completamente la sua vita iniziando a prendere scelte in maniera puramente casuale Dalle scelte più banali alle scelte anche più rilevanti che hanno delle ripercussioni sulla sua famiglia Sulla sua carriera professionale anche diciamo eticamente discutibili ecco mettiamola così E secondo noi questa idea era un'idea da un punto di vista teatrale molto interessante Perché il rapporto tra controllo del personaggio, della storia e casualità è un tema che tutte le persone che calcano i palcoscenici devono porsi ecco Certo, allora vedi qui per esempio sul programma c'è scritto un azzardo teatrale di Francesco Aiello Quindi essendo un azzardo teatrale ed essendo vite a caso dov'è l'azzardo? C'è nella vita che poi a caso bisogna vedere se è veramente a caso Oppure perché avete deciso di portarla proprio qui al Cleto Festival questa commedia perché immagino sia una commedia? Ah non lo so se è una commedia, forse una commedia nera, una commedia di tanti colori comunque No, la riflessione sia sull'azzardo che c'è nella vita sia sull'azzardo di andare in scena ogni volta Quindi quando ho visto Armando e Giuseppe, ci conosciamo insomma da un po' di anni ormai Lavorare, io ho detto che il loro teatro era il teatro del pericolo l'ho chiamato Perché comunque mettono sempre elementi che possono sfuggire al controllo In questo caso abbiamo cercato anche di lavorare su questo, su una parte di improvvisazione Su una parte di, che non neanche noi sapremo come andrà a fine Una parte a caso dello spettacolo c'è per avere rispetto anche dell'idea di Luke Reinhardt Insomma è dell'uomo dei dadi A questo punto io chiederei a un personaggio, tu ovviamente immagino Giuseppe Borino farai un personaggio Io non voglio che mi spieghi qual è il personaggio, di cosa si occuperà il personaggio in questo caso Che poi bisogna vedere sempre se è caso Ma dacci comunque un'idea di quello che è la vita diciamo di un personaggio teatrale Quando si cala nei panni e decide di prendere un po' dalla sua di vita Però forse il personaggio ti somiglia Allora guarda il nostro teatro va al di là diciamo dei personaggi E sicuramente questo spettacolo in modo particolare Noi non interpreteremo un personaggio specifico Ma saremo dei presentatori, mettiamola così Che vengono a illustrare a Cleto la bontà di un'idea L'idea che è il metodo, che è il caso in qualche modo, che è il dado Quindi la fatalità Può essere la strada giusta La strada giusta per diventare felici E in qualche modo questo spettacolo si rifà e si ricollega anche in modo assolutamente diciamo Come dire pittoresco ed estemporaneo Anche al tema diciamo dell'ottava edizione del Cleto Festival Che è il risveglio Perché noi siamo maledettamente, noi umani dico un po' tutti Siamo maledettamente e pervicacemente alla ricerca di una stabilità Ogni giorno ci troviamo di fronte a delle decisioni che dobbiamo prendere Delle scelte che dobbiamo fare E spesso ci troviamo di fronte a dei dilemmi etici apparentemente insommontabili Cosa facciamo? Da una cosa banalissima La chiamo o non la chiamo una ragazza magari Oppure accetto quel lavoro a Milano oppure non l'accetto Beh, pensare almeno per un momento Che possa essere il dado, il caso In qualche modo a decidere per noi Se non è la via giusta da perseguire Sicuramente un po' è accattivante È seducente, è ammaliante come opzione E quindi vogliamo introdurre il nostro pubblico Che verrà, come facciamo sempre nei nostri spettacoli teatrali Attivamente insomma coinvolto durante la rappresentazione Regalargli appunto dei momenti in cui facciamo assaggiare Come potrebbe essere vivere senza decidere Quindi praticamente punteremo i dati Li butteremo i dati questa sera Né in questa vita a caso E dovranno scoprire le persone che vi ascolteranno E chi vi vederanno Quale sarà quello che toccherà a loro questa sera Quindi è un'improvvisazione anche Penso ogni sera sarà qualcosa di diverso Io prima di concludere questa intervista Vorrei chiedere ad Armando Dove trovarvi per invitarvi Non so, a partecipare a qualche altro festival Oppure non so, in giro Se ci sono dei riferimenti A parte penso una pagina Facebook E qualche altro, non so, contatto A me personalmente mi trovate quasi sempre a casa Sto a casa a leggere O a guardare serie TV A parte gli scherzi Noi con la nostra associazione Il Filo di Sofia Abbiamo, sì, come hai detto tu La nostra pagina Facebook Poi lavoriamo a Cosenza da dieci anni E adesso inizierà il nostro secondo anno Al Teatro dell'Acquario Che è un teatro storico Alle porte della parte vecchia della città di Cosenza Quindi già passare dal Teatro dell'Acquario Ci sono buone probabilità di trovarci lì Invece Francesco Aiello In giro per il mondo Tra uno spettacolo e l'altro A macinare successo Perfetto Io ringrazio loro per avermi dedicato Questo spazio prima Dello spettacolo teatrale Vi invito a cercarli ovviamente su Youtube E su Facebook Riccardo Cristiano Libri TV Cleto Festival 2018 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti